Good morning, bad taste! Secondo volumetto dedicato a Rocketeer da Saldapress. Secondo volumetto dedicato alla creatura di Dave Stevens, all'eroe un po' sfigato, il cui unico potere è quello di avere un razzo sulla schiena, all'eroe metanarrativo, un po' parodistico, molto da commedia, che è il signor Cliff Secord, ovvero un pilota sfigatissimo, ma affascinante, un eroe quasi picaresco, anche se gli americani, gli eroi picareschi non li sanno creare, però Dave Stevens è andato veramente vicinissimo. Secondo volumetto appunto dedicato a questo Rocketeer che molti di noi, o perlomeno quelli della mia generazione, hanno conosciuto con un film sfigatissimo degli anni 90, dei primissimi anni 90, qui dentro le firme sono tre e sono importanti, due classiche più una, perché? Perché queste storie sono quelle realizzate da Mark Waid e Chris Senni per il colore di Jordi Belair. Mark Waid e Chris Senni non dovrebbero avere bisogno di presentazioni, perlomeno per gli appassionati di fumetto, per i non appassionati oppure per i distrattoni, questo team creativo è uno dei più premiati degli ultimi anni, perché è quello che ha vinto gli Eisner Awards per il suo ciclo di storie su Daredevil non molti anni fa, è quello di cui vi abbiamo parlato con grande entusiasmo per aver firmato un ciclo importante di Capitano America un anno e mezzo, due fa, iper classico e di ricostruzione del personaggio di Capitano America dopo la cura, shock di Nick Spencer e gli eventi di Secret Empire, ovvero uno dei più controversi, ma anche bellissimi per quanto mi riguarda, eventi Marvel di sempre, ecco qui torniamo a Rocketeer. Rocketeer come dicevo è Cliff Secord, questo pilota americano di provincia che un bel giorno pensa di aver risolto tutte le sue sfighe trovando questo, e trafugando di fatto questo razzo sperimentale che si infila sulla schiena mettendosi un casco inizia a volare per i cieli della sua cittadina e diventa quasi per caso un eroe di provincia, un eroe dell'America, quella quasi da ritorno al futuro, e da paesino apparentemente tranquillo, ma che in qualche modo non lo è mai. Quelle di Rocketeer sono avventure ambientate in anni 50 di grande ingenuità, il personaggio di David Stevens è un ingenuo dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista narrativo, nel senso che si riprende qui un certo tipo di avventura pulp non particolarmente evoluta nel suo impianto narrativo e Mark Quaid e Chris Hennie sono semplicemente perfetti per un personaggio come Rocketeer. Chris Hennie merita fiducia degli acquirenti e dei lettori semplicemente per il suo nome e per il suo cognome, è un narratore per immagini assolutamente meraviglioso, è un disegnatore vintage e moderno al contempo, è uno che sa prendere ciò che è semplice e lo sa far diventare assolutamente di classe, Mark Quaid è semplicemente uno degli sceneggiatori che più ha il mestiere dei comics che attualmente siano esistenti in America, è il dio in terra del passo narrativo, è un grande gestore dei tempi della pagina e della sceneggiatura, è un omino che sa mettere tanto in poco spazio e sa comunicare moltissimo ed è soprattutto un grande amante di Rocketeer perché è un grande amante del fumetto classico e della Golden Age a cui Rocketeer e Dave Stevens facevano riferimento quando il secondo ha creato il primo. Come sono queste storie, com'è questa avventura, il carico maledetto, c'è Rocketeer che si trova a dover affrontare un paio di problemi, il primo è con Betty, la sua storica fidanzata ispirata a Betty Page che di solito lo fa in gelosia e invece in questo caso è gelosa, il secondo è come sempre con i suoi problemi o meglio con i suoi guai di pilota che ha il brevetto sì e no, che non si sa se avrà il permesso di volare e quindi va a cercarsi l'unica cosa che sa fare o l'unica cosa che desidera cioè il cielo come Rocketeer incappa in una serie di guai perché ormai Rocketeer si è fatto un nome come eroe e c'è chi vuole sfruttarlo a proprio vantaggio e dovrà risolvere i guai in formato abbastanza fantascientifico per la sua cittadina minacciata da qualcosa di giurassico, non dirò altro. Sam Nee e Wade come dicevo prima sono perfetti e riprendono da vicino lo stile di Dave Stevens mettendoci del loro, forse un po' eccedendo con l'ingenuità di alcune situazioni ma soprattutto con alcuni sviluppi di trama ma ripagandoci ampiamente con quello che fanno con questi personaggi, c'è questo triangolo amoroso, bellissimo, molto divertente, molto ben gestito che vede Cliff e Betty e una terza parte che è Sally, la nipote di Pivi, ovvero il meccanico di Cliff, nonché la sua principale spalla, come nelle sue azioni supereroiche. c'è il divertimento di mettere qualcosa di assolutamente sopra le righe all'interno della storia per quanto attiene agli antagonisti, c'è un po' il mistero da fumetto pulp con un nemico dietro le quinte, insomma ci sono tanti contenuti del fumetto classicone d'avventura americano che Wade e Sam Nee condiscono con la loro salsa visivo-narrativa che, insomma, che ve lo diciamo a fa' eh? Sono veramente due fuori classe. E quindi Rocketeer, questo secondo volumetto di Rocketeer, il carico maledetto, è secondo me qualcosa che tutti gli appassionati dovrebbero avere in casa. Io ringrazio Salda perché le avventure di Rocketeer sono veramente molto divertenti. Non aspettatevi un supereroismo muscolare, ok? Il bello di Rocketeer è che Cliff Secord è un personaggio che viene tanto preso in giro quanto amato dai suoi sceneggiatori e questa è una cosa che Mark Waid ha compreso in maniera assolutamente indubitabile perché la ritroviamo qui dentro all'interno di queste pagine. C'è un'autoironia, c'era un'autoironia nelle storie di David Stevens assolutamente affascinante e che Mark Waid qui dentro ha riproposto a modo proprio e soprattutto a modo di omaggio. C'è un grande omaggio alle storie originali qui dentro che io ho apprezzato davvero moltissimo. Quindi nella speranza che lo facciate anche voi consigliatissimo secondo volumetto dedicato da Salda Press a Rocketeer, il carico maledetto. Mark Waid, Chris Emney. Buona lettura! See you! Bad taste! Grazie a tutti!